Oggi vogliamo presentarvi la più grande novità in campo scarpone di Atomic per quanto riguarda il freeride touring. Allora questo è il nuovo Oxultra XCD 130 col boa, la novità fondamentale è la chiusura con il sistema boa con la doppia micro regolazione quindi sia a stringere che poi ad allentare ogni singola posizione, uno scarpone da sci alpinismo freeride quindi una struttura da discesa con la possibilità di pellare. È disponibile nelle versioni 130 e 120 da uomo e 115 e 95 da donna.